Bandi di concorso in ospedale per personale non obiettore di coscienza, questo l'oggetto del disegno di legge presentato all'ARS dal deputato regionale trapanese Dario Safina in materia di interruzione volontaria della gravidanza. La proposta normativa d'iniziativa parlamentare intende intervenire sull'effettiva applicazione della legge 194 del 22 maggio 1978 che regolamenta la tutela sociale della maternità, interruzione volontaria della gravidanza e sulle assunzioni di personale medico non obiettore di coscienza nelle aziende sanitarie siciliane. La relazione presentata dal deputato regionale in riferimento alla presenza di personale sanitario non obiettore evidenzia l'elevato numero di obiettori di coscienza per tutte le categorie professionali sanitarie, imputando la responsabilità alle regioni. In Sicilia il numero dei ginecologi obiettore è dell'81,6%. La caratteristica dei concorsi che verranno banditi è quella che dovrà essere prevista una condizione di risoluzione del contratto. In pratica, qualora il medico ha assunto quell'obiettore o il personale sanitario ha assunto quell'obiettore dovesse decidere di divenire obiettore, il contratto si risolverà. In questo modo cosa si ottiene? Si ottiene da un lato il diritto dei medici che oggi tantissimi sono obiettori di permanere in quello status e quindi nessuno imporrà a loro niente, nessun trattamento sanitario contro coscienza verrà richiesto a questo personale sanitario, ma dall'altro si valorizzerà il profilo del non obiettore al fine di tutelare il diritto delle donne ad accedere a un trattamento sanitario previsto da una legge dello Stato che è la 194 del 78. E questo perché? Perché è fondamentale tutelare la salute delle donne in un momento delicatissimo della loro vita che già li mette sotto stress psicologico e che probabilmente avrà delle ripercussioni per tutta la loro vita. E allora fare in modo che questo trattamento possa avvenire all'interno di una struttura sanitaria pubblica con tutte le garanzie che essa può assicurare rappresenta sicuramente un tassello fondamentale nel ruolo della sanità pubblica. Le donne in questa fase è chiaro non vanno lasciate sole e bisogna peraltro far sì che questo diritto e questa tutela venga assicurata tutta a prescindere dalle condizioni reddituali e soprattutto bisogna evitare eventualmente le pratiche che note soprattutto negli anni 60-50 degli aborti clandestini. Dunque dobbiamo assicurare un servizio che sia realmente universale. Questo non significa che necessariamente bisogna favorire la pratica dell'aborto. Non significa ciò e mi auguro che sotto questo profilo ci possa essere la collaborazione di tutto il Parlamento siciliano per costruire una norma che possa salvaguardare tutti gli aspetti, anche quelli psicologici.